Tragedia sul lavoro ieri mattina a Eboli. A perdere la vita Michael Gutta, 23enne originario di Vittoria, città della provincia di Ragusa. Il giovane sarebbe rimasto folgorato mentre stava lavorando all'installazione di una serra agricola. Inutile la corsa verso l'ospedale di Eboli, dove i medici hanno provato a rianimarlo senza successo. Sul luogo dell'accaduto è immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini. Dall'esame esterno effettuato dal medico legale è emersa la prima ipotetica causa del decesso, folgorazione. Nei prossimi giorni il PM da Litto disporrà l'autopsia per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La procura al momento ha aperto un fascicolo contro ignoti.